Io ho paura, io così, tutto male. Pugni, schiaffi, tanto da procurarle vistosi lividi agli occhi e agli zigomi. È ancora sotto shock la donna di nazionalità cinese che ieri sera, poco dopo le 20 a Susegana, ha subito un'aggressione. I testimoni l'hanno vista uscire in strada con il volto tumefatto, scalza e è uscita urlando aiuto e per far rincorrere un uomo che si è poi defilato fra le auto e i passanti. Non conosce che niente venire per consiglio, non basta, non è per venire per il massaggio, per altre cose, capito? La donna asiatica, i primi passanti che le hanno prestato soccorso, pur non parlando italiano, ha fatto capire di essere stata aggredita proprio dal cliente appena fuggito. L'uomo avrebbe preteso una prestazione sessuale contro la sua volontà, malmenandola per cercare di vincere la sua resistenza. Di lì a qualche minuto sul posto sono intervenuti l'ambulanza del suo M118 che ha trasportato la donna sotto sciocca al pronto soccorso e i carabinieri della compagnia di Conegliano, titolari delle indagini immediatamente scattate per risalire al presunto responsabile del pestaggio. Adesso i carabinieri ci hanno chiesto le immagini dalle nostre telecamere. Si tratta sempre comunque di una violenza nei confronti di una donna, perché chiaramente le donne, soprattutto in determinate situazioni etnie, sono considerate delle facili prede, per cui è chiaro che è un atto in ogni caso da condannare.